allora non so a voi che l'avete fatto il film a noi che vediamo questo e gli altri due sembra molto diverso da tutti gli altri film italiani che solitamente vediamo escono anche quelli che in cui magari recitate voi e vorrei capire uno se era effettivamente diverso nel farlo se c'era avete notato un diverso procedimento oppure se queste cose poi sono tutte uguali e due se adesso che ne avete fatti tre voi due e due tu avete imparato qualcosa altrimenti avete già delle carriere insomma non è che però voglio capire se una trilogia del genere vi insegna qualcosa mi ha insegnato a difendermi nella vita che sono sempre stato anche se si vede c'è un fisico che potrebbe essere prestato forse anche perché faccio paura e non si avvicinano ma non mi era capitato mai di fare grandi scazzottate invece grazie al lavoro con gli stante cioè adesso so che posso difendermi anche anche su un treno in corsa se dovesse capitare che mi insegui il bigliettaio perché non è posso benissimo io ho imparato a guidare un sidecar nazista ho imparato a saltare da un sidecar nazista a un treno merci che può sempre capitare nella vita tu dici ecco invece ci si riferisce può succedere ti si si riferisce a questo metti che incontro lo cascio sul tetto di un treno che vuoi fare a botte e quindi uno impara pure a fare a botte sul tetto di tre quello si ho imparato la tecnica della capocciata che è stata ripresa la cronaca ha fatto prima ma noi l'abbiamo fatta prima ma l'abbiamo fatto prima ma l'abbiamo visto il film ma no ha insegnato che poi alla fine il coraggio paga il successo del film io poi non riesco a distinguere benissimo la differenza tra tutti e tre li vedo comunque come una cosa unica anche se sono nati in momenti in momenti diversi però il registro è comunque quello del gran ritmo di una narrazione che poi si sviluppa sulle sulle battute e sull'azione quindi è raro in italia vedere magari un film così così tanto d'azione e al tempo stesso comico per cui direi semplicemente che appunto il coraggio paga sia nella scelta del soggetto del tipo di storia di come girarlo e anche appunto produttivamente il fatto di impegnare così tanti attori perché pure questo è raro no avere un cast così così ricco per un tempo abbastanza lungo perché il 2 e il 3 si è sviluppato su su parecchi mesi di lavorazione è una cosa che rara ma che ha dato la sua soddisfazione insomma soprattutto a noi che quando abbiamo visto il film in momenti anche diversi abbiamo avuto reazioni appunto molto molto positive entusiaste per quello che avevamo fatto e riguardo alla lavorazione vi è sembrato che avesse una lavorazione differente degli altri film no ma no non credo che non credo che il punto sia la lavorazione poi no forse per dire cioè nel senso una grande cura cioè nonostante appunto il ritmo sia forse nato le cose siano però era c'era un attenzione c'è una preparazione molto forte non so se anche cioè io ho visto che c'era proprio un disegno cioè che sidney un regista molto meticoloso sul 7 contagioso vulcanico e così ma perché già lui è come non vede l'ora di arrivare sul 7 perché ha già abbastanza pronto tutta una serie di cose e questo può capitare non può capitare a volte di non trovarlo cioè certe volte poi ci si può scontrare con dei fattori anche di in preparazione invece qua era tutto molto però credo che tutto parta fortemente dalla scrittura nel senso che poi al di là del discorso del 7 come gli altri o insomma qualche film da regista l'ho fatto e insomma so abbastanza bene con quali sono le dinamiche con le quali si lavora con gli attori o sull'atecità dal punto di vista tecnico punto da una originalità di scrittura tutta sua tutta di sidney e perseguire anche sul set quel tipo di scrittura e coinvolgere gli attori a recitare in quel modo quindi credo ci sia fortemente l'impronta di sidney come 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 scrittore tanto è che lui poi quando ci dirige ci recita le scene io addirittura poi gliel'ho confessato molto dopo l'ho invitato nel senso che parla come si dice lui l'ha scoperto molto dopo quando i suoi amici hanno detto ma questo li fa limitazione i suoi amici di salerno l'hanno capito e lui non se n'era accorto che avevo cominciato a limitarlo io ho chiesto a te prima di mentre giravi il secondo avevamo parlato e tu mi avevi detto che eri un po' titubante su questo film perché non avevi mai interpretato un personaggio di questo tipo e non hai grande confidenza con i grandi villain da film commerciale americano adesso che hai fatto tutto voglio capire qual è la scena che ti è piaciuto più interpretare no ma io non so forse appunto disapprovo quello che ti hai rispidato più ai villain shakespeariani che è una cosa che senti più vicina ma non magari ai film di supereroi o ai film d'azione o ai film di spionaggio no no sicuramente è una fortissima novità per me però siccome sidney mi ha chiesto di stare in bilico tra appunto il super villain nel senso come un grande fumetto di una grande di una saga di supereroi ma anche di essere molto verosimile di essere molto credibile quindi dal punto di vista del compito dell'attore quello che ho cercato di fare è evitare di fare il pupazzo ecco il pupazzone cioè cerco di essere comunque una persona estrema eccessiva e quindi in questo senso c'è qualche cosa anche di teatrale di Iagoci che sono personaggi estremi c'è stata una scena che ti ha dato particolare soddisfazione ma non dire quando mi meni il mio ego ne potrebbe risentire fortemente no 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 tutte diciamo mi sarebbe piaciuto dire almeno una battuta comica ma non c'è stato verso cioè ne ho proposte tantissimi mandavo degli sms ma non è bello se lui a un certo punto se ne esce con neanche mi rispondeva sì nei messaggi perché mi ha detto no ti ho detto di no non voglio questo da te io volevo anche un po aprire questo questo angolo di carriera verso la commedia ma non c'è stato verso farò il cattivo un total black un total dark va bene grazie mille bravo